Buongiorno a tutti, sono Maria Chiara Carrozza e sono il direttore della Scuola Superiore Sant'Anna. Sono anche professoressa di biorobotica e sono qui per darvi il benvenuto a questa scuola che vi farà stare con noi fino a sabato per una serie di lezioni e di attività di orientamento verso la vostra scelta in campo universitario. Domani sarò con voi per parlare delle mie attività di ricercatore, delle mie attività di ricerca, del mio percorso, di quello che mi ha motivato, dei successi e anche degli insuccessi che ho avuto, però oggi sono qui per darvi il benvenuto, mi dispiace non essere con voi ma ve lo do in forma di video per dirvi benvenuti alla nostra scuola di orientamento, siete voi i protagonisti di questa scuola, noi daremo il possibile, faremo il nostro meglio per cercare di orientarvi verso la scelta universitaria facendovi vedere quali sono le nostre attività di ricerca, le nostre iniziative didattiche La scuola si occupa di scienze sociali e sperimentali, quindi si occupa dei problemi dell'oggi, delle soluzioni di ricerca fondamentale o più applicata ma sempre nell'ambito di quello che avviene nella società, sia che ci occupiamo di salute, di salute della persona, sia di diritto, di diritto internazionale, tutte le problematiche che affrontiamo hanno un senso rispetto al presente e al futuro. Mi fa piacere darvi il benvenuto e dirvi che vi siete meritati di arrivare fin qui perché avete studiato tanto, avete ottenuto ottimi risultati ma il percorso comincia ora, dovete scegliere cosa studiare e mi auguro che farete sicuramente domanda per il concorso di ammissione alla scuola. Si tratta di un concorso difficile, competitivo, di una sfida importante. Sfidate voi stessi, fate una prova che vi servirà a crescere, a maturare, a capire se siete veramente portati per diventare allievi della Scuola Superiore Sant'Anna. In ogni caso è importante mettersi alla prova e misurarsi. Quest'anno c'è anche una novità, abbiamo attivato sia una pagina Facebook che è un canale YouTube dove potrete seguirci da vicino durante questo anno prima della scelta. Diffondetelo, diffondetelo il più possibile. Conoscerete anche i nostri allievi attraverso questi canali, quelli che vedete alle mie spalle che vivono già all'interno della scuola e che si adopereranno in questi giorni insieme ai docenti, al personale tecnico-amministrativo per farvi fare questo viaggio nella scuola che è prima di tutto un viaggio dentro voi stessi, dentro le vostre capacità, dentro le vostre possibilità, le vostre aspirazioni. Il futuro è vostro, sappiate costruirlo impegnandovi per il vostro percorso universitario. A presto! Ciao a tutti, io sono Giacomo Ragni, sono un allievo ormai al quarto anno di ingegneria meccanica. Sono entrato a scuola dopo aver superato il concorso. Ho scelto di farlo perché volevo mettermi alla prova, proprio come credo voi vogliate fare in questa settimana. Voi prima dovrete conoscere, dovrete scegliere cosa vi piace e poi mi auguro che provando il concorso a scuola riusciate a entrare, riusciate a fare durante la vostra carriera universitaria e poi in futuro quello che vi piace, quello che vi dà le motivazioni e quello che vi può rendere felici. Ed è quello che noi facciamo qui a scuola, seguendo non solo i corsi in facoltà, ma anche i corsi ordinari. In questa settimana a voi viene data la possibilità di apprendere realmente quello che si fa in un centro di ricerca come la scuola e di capire quello che voi potrete fare in futuro. Dopo questa settimana però non perdete contatti con la scuola, con gli allievi e con tutti quelli che potranno essere un giorno anche dei vostri compagni di studio. Continuate a seguirci sul canale YouTube della scuola, sul sito e sulla pagina Facebook.